pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati nella prima domenica di quaresima incontriamo il testo delle tentazioni di gesù quest'anno secondo la prospettiva di marco molto più asciutto nei dettagli di luca e matteo alle tentazioni segue la proclamazione della lieta novella del vangelo con l'invito a convertirsi visto il tempo penitenziale nel quale ci troviamo soffermiamoci sul tema della tentazione delle sue dinamiche come avviene la tentazione come combatterla andiamo un po al testo anzitutto marco fa notare che dopo il battesimo lo spirito santo spinse gesù nel deserto usa un verbo forte che vuole esprimere che lo spirito sostiene con forza gesù che deve affrontare quel cammino quel percorso quella lotta come a dire che nella vita anche noi dobbiamo fare i conti con un avversario il maligno satana che in aramaico originariamente significa l'avversario gesù potremmo dire ripercorre il cammino del popolo di israele nel deserto durante l'esodo nel deserto fu messo alla prova e sappiamo bene come il popolo di israele non si mantenne fedele gesù invece si mantiene fedele vince il maligno e vediamo che la scena si conclude con quello squarcio di paradiso quella riconciliazione bellissima gli angeli lo servivano stava in mezzo alle fiere proprio a manifestare come gesù viene a riportare l'umanità a quella condizione di pacificazione con dio con il creato in se stessa che vi era prima della caduta del peccato è qualcosa che davvero possiamo sperimentare anche noi nella misura in cui lasciamo regnare nel cuore gesù e lottiamo vincendo la tentazione il vangelo non si sofferma sullo spiegarci l'origine del maligno ci fa capire però che il demonio esiste è spietato e forte è un angelo ribelle che tenta tutti alla rivolta contro dio che vuol portarci alla perdizione eterna ma non può resistere alla signoria di cristo ecco il diavolo è una creatura perversa che tenta tutti al male ma non è l'antagonista di dio potremmo dire una sorta di dio cattivo è una creatura il diavolo ci può tentare ma non ci può far compiere il male noi possiamo consentire o meno alla tentazione anzitutto che cos'è la tentazione possiamo definirla come la suggestione operata dal maligno mediante la quale cerca di portarci al male farci scegliere quindi il male anziché il bene oppure un male maggiore rispetto ad un male minore oppure un bene minore rispetto a un bene maggiore a che livello opera la tentazione la tentazione anzitutto opera a livello dei pensieri e dell'immaginazione falleva sulla nostra concupiscenza che è quell'inclinazione quell'attrazione al male che è frutto e conseguenza del peccato originale gioca sulle nostre paure e a volte attraverso terze persone che consapevolmente o meno hanno accolto la tentazione nella loro vita cerchiamo di capire il diavolo ci tenta attraverso l'immaginazione il pensiero anzitutto essendo menzognero la sua tentazione di fondo attacca il nostro rapporto con dio pensate al libro della genesi dove lavora il maligno sul presentare ad eva un'immagine distorta di dio come qualcuno che ti limita come un peso presenta la parola di dio come un ostacolo alla felicità ecco il lavoro fondamentale del maligno è confonderci su dio allontanarci da lui tanto meno abbiamo la luce della parola di dio tanto meno c'è la sua presenza nella nostra vita tanto più siamo schiavi e prigionieri del male in tante sue forme senza che neanche ce ne rendiamo conto passate l'immagine siamo come dei salami appesi che pensano di essere degli uccellini che volano liberamente quindi il maligno gioca anzitutto sul mondo dei pensieri suscitando ragionamenti contorti e distorti che ci allontanino dal vero bene cerca di portarci lontano dalla parola di dio e a disobbedirle in modo da staccarci da lui ed essere così senza la sua vita e noi nella morte schiavi del peccato ancora può suscitare delle immagini e delle fantasie negative che ci allontanano dalla felicità dalla purezza dal vero bene altre volte suscita pensieri e ricordi che possano guastare la nostra anima oppure può suscitare letture vittimistiche ed egoistiche della realtà o anche farci ricordare rielaborare in modo parziale negativo la nostra storia e dunque inquinare la nostra memoria può suscitarci dei pensieri cattivi contro gli altri che ci portino alla rabbiosa inquietudine cercando di seminare discordie invidie gelosie di seminare dunque separazione quindi miei cari una cosa importante è imparare a non canonizzare tutti i nostri pensieri sant'ignazio maestro dello spirito diceva che i nostri pensieri possono venire da tre sorgenti da noi stessi oppure possono essere ispirati dallo spirito santo dal nostro angelo custode o possono essere suggeriti dal maligno quando passano i pensieri dobbiamo quindi imparare a setacciare a distinguere cosa è buono da ciò che non è buono e lasciar perdere quanto non è buono nella nostra testa passa di tutto e di più l'importante non far fare il nido a ciò che buono non è un secondo punto del quale tener conto e sapere che la tentazione gioca molto sulla nostra concupiscenza quindi l'attrazione al male e sulle nostre emozioni direi soprattutto sulle nostre paure ad esempio la tentazione può spingerci a consumare un piacere egoistico immediato solitamente giocando molto sul livello fisico corporeo facendoci perdere di vista un bene effettivo e magari più profondo sant'ignazio parlando delle regole base del discernimento ne riporta due che sono particolarmente illuminanti e dice così alle persone che vanno di peccato in peccato il nemico propone sempre nuovi piaceri e godimenti perché essi persistano e crescano nei loro vizi cioè va da sé che se tu hai imboccato la strada del male sei preso in alcuni piaceri egoistici in alcune dinamiche distorte come opera il maligno proponendotene di nuovi cercando di non farti scendere in profondità in modo che tu continui in quella strada di contro lo spirito di dio cercherà invece di riportarci in noi stessi e sulla strada giusta come magari attraverso la contrizione permetterà magari persone che ci richiamino al bene ci pungola interiormente perché perché possiamo rientrare in noi stessi invece per coloro che cercano di allontanarsi dal peccato e camminare nel bene è proprio del cattivo spirito rimordere rattristare creare impedimenti turbando con false ragioni affinché non si vada avanti cioè il diavolo cerca di mettere tutti i bastoni tra le ruote possibili immaginabili per frenarci in modo da non farci avanzare nel bene ad esempio ti farà sembrare troppo quell'ispirazione quel bene che senti nel cuore che sei chiamato a compiere ti farà aver paura che tu non sarai felice cercherà di scoraggiarti proponendoti se non il male un bene minore lo spirito santo invece conforta incoraggia sostiene da pace gioia profonda perché perché si perseveri nel bene infine miei cari la tentazione può arrivare attraverso situazioni o persone esterne a noi che a loro volta consapevolmente o meno hanno accolto la tentazione facciamo un paio di esempi molto semplici un mio amico si droga e lo propone anche a me oppure sono felicemente sposato e una persona ci prova con me e via dicendo a questo punto ci chiediamo come fare per vincere la tentazione due cose importanti pregare ed essere vigilanti la prima cosa è la preghiera essere persone che pregano che hanno contatto con dio che meditano la sua parola che illumina il nostro cuore essere persone che attingono alla sua grazia nei sacramenti e quando capiamo che un pensiero una situazione è una tentazione elevare sempre il cuore a dio chiedere il suo aiuto quindi essere persone vigilanti attente che sanno vagliare valutare pensieri e situazioni la tentazione infatti secondo i padri della chiesa ha tre step tre passaggi prima di tutto c'è la suggestione poi c'è la dilettazione quindi ci può essere il consenso cioè inizia con una suggestione un'idea un'immagine una proposta se io mi diletto inizio a coltivarla dialogarci e non taglio subito rischio di cadere nel consenso cioè di acconsentire al male ecco perché è importante tagliar corto quando ci rendiamo conto che una situazione una relazione un'idea un pensiero è una tentazione tagliare tagliare direttamente senza dialogarci si parla in alcuni casi di dover resistere perché magari la tentazione non svanisce subito e si parla in questi casi di resistenza diretta o indiretta si parla di resistenza diretta quando quando facciamo l'opposto di ciò che suggerisce la tentazione quindi la affrontiamo direttamente ad esempio ci mettiamo a parlar bene di qualcuno del quale avremmo voluto parlare male oppure facciamo un abbondante lemosina quando l'avarizia cercava di serrarci la mano preghiamo un po di più quando il nemico ci suggeriva di abbreviare la preghiera o di ometterla del tutto oppure la resistenza indiretta diceva san filippo neri quando la sconfitta inevitabile la miglior difesa e la fuga quindi riconoscerla elevare il cuore al signore nella preghiera e resistere qualora ce l'avessimo fatta ringraziamo il signore qualora fossimo caduti non scoraggiamoci ricordiamoci che la misericordia di dio è grande gettiamoci fiduciosi tra le sue braccia invocando il suo perdono e lasciandoci guarire nel sacramento della confessione e qualora fossimo nel dubbio lasciamo passare un certo tempo e quando siamo un po più sereni ripensiamo quanto vissuto e se proprio non riuscissimo ad uscirne apriamo il cuore con qualcuno che ci può aiutare chiediamo allora la grazia al signore che questo tempo di quaresima ci renda più consapevoli e più forti contro il male sapendo che con gesù diventiamo sempre più liberi di amare che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti